I numeri già parlano da sé, soprattutto affrontarli in casa sembrano quasi invincibili, quindi è una partita difficile, ma noi abbiamo dimostrato in passato che quando abbiamo fatto le cose per bene ce la siamo giocata con tutti e speriamo di farla anche con il Napoli, poi alla fine si vedrà qual è stato il risultato. Grazie a tutti.